Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi faccio vedere un pochino le piante come stanno qua dopo tutte queste piogge grandine qua nel Veneto, un disastro, però stanno resistendo bene. Il problema più grande sono i funghi, ossia le malattie fungine, che attaccano le nostre piantine e distruggono un po' e anche i marciumi radicali. Per i marciumi radicali prepariamo un substrato con tanti inerti, guardate che bello. Con tanti inerti, tante cose, che l'acqua, andare via velocemente, più veloce va via l'acqua, meglio è. Guardate che bello. Adesso è uscito un po' il sole e sono aperti un po' di fiorellini. Guardate questa Letizia, vedete? Lei ha bisogno di soli, per questo l'ho messa qua. E qua, come potete vedere, i fiorellini. Qua il mio più grosso problema è la Deva, mia cagnona linda, meravigliosa. Guardate, mi rompe tutto. Qua c'è il guscio di uovo che metto sempre, che aiuta le piante. E così stanno, anche se è grandinato, è rovinato le macchine, ma non le piante. Guardate, in quell'angolino, io metto le piante che amano più stare all'ombra. Guardate, ficoselastica. Quelle piantine che abbiamo fatto assieme su quel video della potatura. Molto bene, molto belle. Ah, guardate qua. Io non sto molto a sguidare a Deva perché sa abbaiare o litigare con i cani, perché lei è un cane e fa i cani, è normale. Però, vedete, mi ha rotto tutto, guarda qua. La piantina, che è una pianta molto bella, guardate. E rompe tutto. Allora, cosa ho fatto? Ho messo questi pezzetti di bambù in maniera che lei, cioè, che faccia una piccola barriera, questa che lei ha rotto. Io faccio solo così. E basta. Guardate che bella questa serana. Io l'ho potata, decaptata, in maniera che mi facesse un alberello. Come dico sempre, a loro piacciono stare assieme. Fiorillino in mezzo, che bello. Guardate. Qua devo passare qualche insetticida perché vedo che mi sta mangiando. Queste sono quelle che ho fatto di talea, che ho fatto anche il video, che è sul canale. A proposito, sul canale. Chi non è iscritto, magari si iscrive al canale. Chi è già iscritto, ringrazio tanto. Mi lasciate un bel like, dei commenti. Guardate, il pericolo più grande di tutta questa pioggia. Guardate. Vedete? Malattie. Questo è fungo. E quindi, devo trattare. Guardate, questa è stata trattata. Vedete? Con i verdirame. Qua c'è un po' di pomodoro. Mi metto un po' di roba dappertutto. Mi piace mischiare le cose. Qua stanno bene. Guardate. Guardate che bel colore. Anche questo sta molto bene. Questo mischio di colori con i fiorellini è magnifico proprio. Qua vorrei mettere, guarda, fa vedere che questa letizia che ha preso molto più sole è un colore diverso. Molto bella. Tutto prosegue. Ovvio che qualche disastro troviamo. Sai. Guardate. Allora, cosa è successo qua? È piovuto. E dopo il sole ha scaldato troppo il terreno. In maniera che è cucinato. In queste parti qua. Quindi bisogna pulirla tutta. Tagliare questa parte. Vedete? E poi già qua. E la natura fa il resto. Lo farò con tutto il vaso. Le do. Fa le radici da sola. Guardate. E invece questo. Marciumi radicali. Sì, vi ho fatto vedere i tre pericoli di questo tempo. Pioggia e sole. Ossia. Malattie e fungini. Marciumi radicali. E poi l'accumulo d'acqua. Guardate un'altra. Che secca. Questa parte. Quindi con i marciumi radicali. Un tericio bello drenante. Con questo problemino qua. Il collegamento tra le radici. E la pianta. La parte esterna della pianta. Non c'è più. Quindi noi dobbiamo tagliare. Così. Come vi ho fatto vedere prima. Vi faccio vedere. C'è ancora un'altra. Che mi ha fatto questa brutta cosa. Eccola. Allora. Vedete. Qua si vede bene bene. Che si è seccato. E guardate. La pianta sta già cercando di fare delle nuove radici. Faremo solo. E lei si arrangerà a fare le radici. E crescere diventa bella un'altra volta. Dobbiamo fare con tutto il vaso. Guardate. Si è seccata. Vedi. Da qua invece. Lei ha fatto altre radici. Tagliare. E metterne il substrato. Queste sono le cose che mi sta succedendo qua. E forse sta succedendo anche a voi. E quindi volevo spiegare una maniera di comportarsi. Con questi piccoli problemi. Ma. Che c'è sempre una soluzione. Guardate questa Madiba. Che bella. Questo era un tour. Con consigli. Come faccio sempre. E vi mando un gran bacio. Ricordo ancora. Chi non è iscritto al canale. Che iscrive al canale. Che si iscrive al canale. Che lascia un bel like. E condividi con gli amici. Un gran grazie. E noi ci vediamo in un prossimo video. Con tanti consigli. Per le piante grazie. E tanto altro.